Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV, dopo 2-3 mesi di certo anonimato l'inverno ha deciso di ripresentarsi verso il finire della stagione e il peggioramento preannunciato in qualche modo la settimana scorsa sta trovando conferma nei modelli previsionali degli ultimi giorni con una depressione che si formerà proprio al sud Italia, quindi una situazione opposta a quella di oggi con tempo bello, con temperature decisamente primaverili, domani nel giro di 24 ore cambierà tutto, si formerà una depressione, questa volta le perturbazioni non saranno rapide, non ci saranno solo 3-4 ore di precipitazioni, ma saranno precipitazioni consistenti in seno a un vortice depressionale che quindi continuamente rinvigorirà l'energia termica presente nella depressione, avremo precipitazioni anche di forte intensità e anche di lunga durata, quindi prestiamoci a vivere una situazione prettamente invernale. Vediamo innanzitutto l'immagine del satellite su scala europea, si nota una perturbazione presente sul nord delle Alpi, seguita da un fronte freddo proprio presente tra la Scandinavia e la Germania, questo fronte freddo sta velocemente scendendo verso sud e un'altra nuvolosità viene dalla Spagna, dalla penisia liberica, dalle Baleari verso le regioni tirreniche italiane, si daranno appuntamento proprio queste due masse d'aria sul centro-sud, ma soprattutto sul sud Italia dove si formerà questa depressione fuori era di forti precipitazioni, quindi nel giro di poche ore il tempo volgerà al peggio con nevicate anche abbondanti. Vediamo lo zoom sull'Italia che per il momento ci mostra pochissima nuvolosità, vedete il centro-sud sgomba da nubi, un po' di nuvolosità lì tra la Toscana e le Marche senza fenomeni, a parte un po' di piogge sulle coste Liguri e Toscane, per il resto si comincia a vedere un po' di nuvolosità da ovest che arriva dalla Sardegna, vedete i sindomi, sono i prodromi di questa perturbazione mite che viene da ovest che però andrà a contrastare con aria più fredda come abbiamo visto dall'altro satellite proveniente da nord, quindi tempo in peggioramento. Oggi è ancora una giornata all'insegna del bel tempo, una nuvolosità appena appena alta e stratificata, vediamo con la cartina prodotta da Meteo 7 che ringraziamo la situazione per oggi, una situazione che vede tanto sole su tutta la nostra regione, un po' di nuvolosità soprattutto di velature, quindi nubi alte che non andranno a rovinare la giornata fatta di tanto sole con temperature, vedete voi i valori veramente primaverili, non sono certi da febbraio, sono valori di fine aprile sicuramente, 14 gradi a potenza, 16 gradi a materia, le minime sono state bassine, durante la notte comunque le temperature scendono, ci sono sempre stese gelate nei fondovale, nelle zone più basse dove si accumula l'aria più fredda. Quindi una situazione di attesa perché andiamo a vedere la giornata di domani, una giornata che vede un tempo in forte peggioramento a partire dalle zone sia sud occidentali, quindi lagone crese, sia dalle zone del vulturo emelfese, quindi due masse d'aria si andranno a confluire proprio sulla nostra regione, vediamo la situazione per domani, è chiara la simbolologia dei fenomeni, parla chiaro, vedete nevicate su tutta la fascia del Potentino, miste a neve intorno ai 500 metri, ma dove le precipitazioni saranno forti, potrebbe nevicare anche intorno a quella quota, insomma anche a 500 metri, difficilmente potrà nevicare a Matera, se non domani notte qualche fiocco perché non c'è quel freddo proprio che possa far scendere la neve a quote inferiori. Comunque tutta la Basilicata all'insegna del maltempo, domani mattina qualche ora ancora di sole, appena l'alba dove uscirà il sole alle 6 e mezza, alle 7 e la mattina un po' di sole, fino alle 9, alle 10, poi il peggioramento sarà rapido a partire come dicevo sia da nord sia da sud ovest, entro il pomeriggio tutta la regione sarà interessata da forti fenomeni con nevicate che andranno via via intensificandosi, quindi attenzione pomeriggio sera evitate di mettervi in viaggio perché ci saranno nevicate pur con temperature non sotto zero ma avremo forti nevicate proprio dovute all'intensità e all'aria fredda che dalle alte quote si trasferirà verso il basso, quindi entro la serata, la nottata di domani potremo avere su potenza anche oltre 20 cm di neve, quindi una situazione da attenzionare, come dicevo evitate di mettervi in macchina soprattutto dopo il tramonto perché potrebbero potrebbero essere nevicate forti anche a livello di 3 cm a ora, quindi nevicata molto forte. Andiamo a vedere la giornata di domenica, questa situazione in qualche modo rimarrà sempre legata a questa depressione che poco poco tenderà a scivolare verso sud est, ma comunque darà ancora fenomeni per tutta la giornata di domenica seppur un pochino più attenuati, non avremo nevicate intensissime ma comunque nevicate moderate che sempre intorno ai 500-600 metri daranno ulteriore apporto alla consistenza del manto nevoso che in alcuni casi potrebbe anche raggiungere il mezzo metro nelle zone di montagna, quindi nevicate davvero forti, importanti, ancora una volta dicevo evitate, evitiamo di metterci in viaggio da laddove non sono condizioni talmente necessarie. Le temperature abbiamo visto sono in diminuzione, quindi si mantengono su valori bassi, 1 la minima potenza, 3 la matena, ma nel caso di nevicate le temperature scenderanno anche intorno allo 0 gradi a potenza, forse qualche fiocchio di neve si vedrà anche a Matera domenica mattina, massime che potrebbero stentatamente arrivare a 3-4 gradi su potenza, un po' di più a Matera, ma se le precipitazioni poi rimarranno costanti per tutta la giornata difficilmente ne aggiungeremo anche questi valori, quindi in situazione invernale a tutti gli effetti. vediamo il lunedì, c'è un allentamento di questa fase di maltempo forte, ma attenzione perché ci sono delle ritornanti da est, quindi non è che il tempo vada a migliorare più di tanto, certo avremo delle schiarite, avremo temperature massime di qualche grado laddove c'è il sole un po' più alte di quelle di sabato e domenica, ma comunque vedete i valori minimi, sono sotto 0 sia su potenza, meno 2, vedete Melfi, Pesco Pagano, Vigiano, insomma è una situazione piuttosto generalizzata e tenete presente che anche nei prossimi giorni avremo ulteriori afflusso di correnti da est, quindi non è escluso che tra martedì e mercoledì ci sia una recrudescenza del maltempo, quindi un ritorno del maltempo, anche nei giorni successivi, quindi vediamo infatti la grafica degli spaghetti che non danno un segnale chiaro di miglioramento, vedete innanzitutto la parte alta delle temperature, andiamo nettamente al di sotto delle medie per gran parte della prossima settimana, anche per il futuro si prevedono temperature sempre al di sotto delle medie stagionali, la linea rossa ricordo e per quanto riguarda le precipitazioni, volevo farvi notare che gran parte dei modelli sono concordi nel portare tanti millimetri di pioggia, tanti centimetri di neve tra sabato e domenica, lunedì e martedì ancora vedete ci sono dei fenomeni, ma potrebbero aumentare, come dicevo c'è una ritornante da est che non è da escludere, qualche giorno di pausa, ma poi le precipitazioni sempre con temperature al di sotto delle medie potrebbero ripresentarsi a fine settimana, quindi a fine prossima settimana, quindi una situazione con un mese di marzo che si potrebbe presentare piuttosto scoppiettante dal punto di vista invernale, quindi l'inverno non è finito, dicevo la settimana scorsa domenica, dicembre, gennaio e febbraio sotto tono, la fine di febbraio si sta dimostrando completamente opposto e marzo promette situazioni invernali ripetute, quindi attenzione e innanzitutto ripeto un ulteriore avviso, domani sera evitiamo di uscire se non per necessità perché le condizioni del tempo sono fortemente votate a maltempo di tipo invernale, quindi forti nevicate e quindi evitiamo, restiamo più tempo possibile a casa perché ci sono condizioni assolutamente da non affrontare. È tutto, per il momento vi auguro un buon fine settimana e arrivederci sulla Nuova TV. Grazie. Grazie a tutti.